Ha preso le mosse nel settembre del 2020 dopo l'incendio in un impianto di raccolta dei rifiuti della Trapani Servizi S.p.A. l'inchiesta che oggi ha portato all'arresto dell'ex assessore comunale di Trapani Dario Safina. La natura dolosa del rogo spinse i carabinieri a disporre una serie di intercettazioni a carico dell'amministratore unico protempore della società comunale che gestisce i rifiuti Carlo Guarnotta e di alcuni dipendenti della municipalizzata che lavoravano all'impianto. L'inchiesta avrebbe anche accertato che per favorire la nomina di Guarnotta a direttore generale dopo la sua decadenza dalla carica sarebbe stato predisposto un concorso truccato. Per aiutare Guarnotta l'avviso per la selezione del direttore sarebbe stato fatto da bello fiore su misura attraverso l'inserimento di una serie di requisiti che solo il concorrente favorito aveva. Al piano avrebbe partecipato anche l'allora direttore amministrativo Ullo. In cambio dell'aiuto Guarnotta avrebbe promesso a Rosario Bellofiore, ex consulente della società, la conferma dell'incarico nonostante il parere negativo del CDA. Stamattina all'alba mi è stato notificato un provvedimento di arresti domiciliari a scritti in una nota il deputato regionale del PD Dario Safina «Sono sereno e ho la coscienza tranquilla, sono fiducioso nell'operato della magistratura e sono certo che riuscirò a chiarire la vicenda nel più breve tempo possibile», ha concluso. Secondo IPM, in cambio delle informazioni che avrebbero fatto vincere la City Green Light, Valerio Cristian avrebbe affidato all'allora assessore comunale Safina 50.000 euro per iniziative comunali, 10.000 euro per le luminarie cittadine per il Natale del 2020, quattro telecamere da installare accanto a due fontane cittadine per la videosorveglianza e due dispositivi di illuminazione di un'opera d'arte installata in piazza a Catito, regali che, secondo IPM, sarebbero stati sollecitati da Safina per accrescere la propria visibilità e incrementare il proprio rilievo politico.